Vertenza MP di Nusco, 42 lavoratori prossimamente rischiano la mobilità. Ci sono due ipotesi per riconvertire la fabbrica, per riprendere la produzione, ma nessuna rassicura pienamente i lavoratori, è così dedonato? Noi siamo preoccupati perché in effetti con l'apertura della mobilità vuol dire che ci troviamo in una zona già fortemente depressa, 42 ulteriori licenziamenti di maestranze. Stiamo cercando di fare il nostro meglio, cercando di colloquiare con due imprenditori che ognuno di loro desidererebbe fare un fitto d'azienda e quindi con l'MP. Una ci vuole assumere da subito 8 unità e un'altra ci vuole assumere da subito 28 unità. Le garanzie non sta a noi chiaramente ricercarle, tant'è che abbiamo fatto un incontro col prefetto.